Stefano, La barca di Pietro nel mare in tempesta, questo è il tuo terzo libro. Sì, finalmente siamo riusciti a presentare questo libro che in verità è stato pubblicato nel 2020, proprio nell'anno della pandemia, e siamo riusciti a presentarlo durante questo mese di agosto a Mesoraca nel santuario del Santissimo Eceomo. È un libro che è dedicato sostanzialmente al Ministero Petrino di San Zossimo I, che è un papa nativo dell'antica Reazio, cioè l'odierna Mesoraca, in provincia di Crotone. Quindi c'è anche un po' di orgoglio in questo libro, l'orgoglio dei cittadini di Mesoraca, ma di tutto il nostro territorio? Beh, sicuramente perché questo nostro territorio, come è noto, ha dato in Natalia tre dei dieci pontifici nativi della Calabria. San Zossimo da Mesoraca, che è il secondo papa crotonese, Sant'Antero dell'antica Petelia, l'odierna Strongoli, che è il primo papa del territorio del crotonese, e poi San Zaccaria dell'antica Siberene, cioè l'odierna Santa Severina. Perché la barca di Pietro nel mare in tempesta? E perché la Chiesa Cattolica, durante il pontificato di San Zossimo, è stata davvero, come ci dice il Vangelo, come una barca davvero nel mare in tempesta, nel senso che San Zossimo ha dovuto far fronte a numerosi problemi, soprattutto quelli legati al disordine che c'era all'interno della Chiesa, dal punto di vista organizzativo, legislativo, ma soprattutto a problemi legati alle RSI che erano state propagate durante il pontificato precedente a quello di San Zossimo e anche durante il pontificato di San Zossimo.